Arriviamo alla parte 4 e parliamo del riuso di dati pubblici, cioè quando il titolare della banca dati, colui che realizza la banca dati, non è un soggetto generico, privato, ma è un ente pubblico e quindi si entra in un'altra, tutta una serie di problematiche diverse. Perché? Perché si è aperto il dibattito, diciamo anche a livello politico, già circa una ventina d'anni fa, sul fatto che fosse importante che le pubbliche amministrazioni condividessero, almeno tra loro, ma anche con i cittadini, il maggior numero, la maggior massa di dati a loro disposizione. E quindi dall'inizio degli anni 2000, vedete, in sede europea si inizia a spingere verso una maggiore condivisione e un maggior riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni. Esempio, io come avvocato devo partecipare a una selezione pubblica per diventare consulente di una pubblica amministrazione. C'è bisogno, cioè io ogni volta devo fornire questi dati relativi alla mia attività, oppure il comune di Pavia, presso cui sto facendo la selezione, può farsi dare questi dati direttamente dall'ordine avvocati di Lodi, dove io sono iscritto. Ok? Perché? Perché a volte i dati sono già in possesso della pubblica amministrazione e devono essere semplicemente condivisi tra loro, condivisi all'interno della pubblica amministrazione. Ok? E quindi è uno dei principi su cui in teoria si basa anche una maggiore efficienza della pubblica amministrazione. Quindi nell'ambito del tema open data, il riutilizzo della cosiddetta public set of information è una sua estrinsecazione abbastanza importante. Scusatemi, si è stortato un po' il cellulare. Ok. E vedete che ci sono state delle direttive europee abbastanza importanti che hanno dato la direzione. Cioè da qua in poi, dagli anni, vedete, 2003 in poi, queste direttive hanno spinto affinché i paesi europei iniziassero a fare norme nazionali verso la direzione della condivisione e la libera condivisione di dati pubblici. Sapete un po' come funziona il diritto dell'Unione Europea? Cioè l'Unione Europea fa una direttiva e poi questa direttiva deve essere recepita dai legislatori degli stati membri dell'Unione, no? Quindi le direttive sono direttive, cioè danno delle indicazioni generali e poi gli stati decidono come di volta in volta applicarle. Però ecco, danno quantomeno dei principi comuni a tutti gli stati membri dell'Unione. La prima è del 2003, poi c'è stata una del 2007 relativa ai dati spaziali geografici, poi c'è stato un aggiornamento nel 2013 e poi quella più recente, che è dell'anno scorso, 2019, che è stata molto innovativa perché vedete che parla di apertura dei dati. Prima si parlava solo di riutilizzo, no? Nella prima, quella del 2003, era riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico. Adesso parlano espressamente, l'ultima parla espressamente di apertura dei dati e riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico. Come funziona però il diritto d'autore su, il diritto d'autore degli enti pubblici? Cioè gli enti pubblici hanno un diritto d'autore, perché questa è la domanda che dobbiamo porci sostanzialmente? E la risposta è sì, però. Il però è in questo articolo 5, cioè l'articolo 5 della legge sul diritto d'autore esclude dal diritto d'autore solamente, come vedete, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. Quindi non dice che le banche dati delle pubbliche amministrazioni sono libere. Un classico esempio di banca dati pubblica è, che ne so, gli orari degli autobus. Gli orari degli autobus del comune di Milano, no? O degli orari della metropolitana, quelli che trovate appesi sui paletti delle fermate. Quella è una banca dati, perché altro non è che un elenco di orari. Quello è un testo di un atto ufficiale. È interessante questa riflessione, perché la norma del 41 parlava di testi degli atti ufficiali, quindi si riferiva più che altro, ad esempio, alle sentenze dei giudici, alle delibere delle pubbliche amministrazioni, ai testi di legge, ai testi normativi. Cioè tutti quelli che sono atti ufficiali della pubblica amministrazione. Però se ci pensate, anche la banca dati degli orari degli autobus è ufficiale, perché viene rilasciata dalla pubblica amministrazione e permette ai cittadini di prendere l'autobus, di prendere la metropolitana. Quindi, boh, c'è un po' di dibattito ancora aperto su questo tema. L'articolo 11 sembra dire una cosa opposta, cioè dice che alle pubbliche amministrazioni ha comunque riservato un diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto loro nome o a loro conto e spese. Quindi, in generale, salvo il caso dei testi degli atti ufficiali, noi dobbiamo considerare le opere create dagli enti pubblici come tutelate da diritto d'autore. E quindi servono le licenze. Torniamo al punto di partenza, cioè servono, vabbè qui vi spiegavo che sono norme solo apparentemente in contraddizione tra loro, cioè servono le licenze e bisogna in qualche modo forzare le pubbliche amministrazioni italiane da un lato a rilasciare i dati e dall'altro a rilasciarli con delle licenze open. Cosa è successo però? Che nonostante ci fossero queste indicazioni, cioè i ministeri competenti già dalla fine degli anni 2000, quindi 2009-2010, stavano dando indicazioni e dicevano, signori, se volete rilasciare liberamente le vostre banche di dati ci sono già le licenze open, le potete utilizzare. Quindi, orsù, utilizzatele. C'era un po' di inerzia da parte delle pubbliche amministrazioni e allora si sono inventati questo, il famoso, il famigerato open by default e come vedete questo nuovo principio è arrivato, vabbè, sull'onda dell'entusiasmo del tema open data, come vi ho già più o meno anticipato e anche sulla base delle direttive europee che spingevano in quella direzione. È stato inserito, è stato introdotto dal decreto crescita 2.0 che era un decreto dell'ottobre 2012, poi diventato legge nel dicembre 2012, la legge 2.2.1 del 2012, e per sfruttare, come ho sottolineato qui in mezzo, per sfruttare in positivo l'inerzia della PA, cioè le PA, le pubbliche amministrazioni, non applicavano le licenze open e allora l'esercitatore si è inventato una norma che dice che nel momento in cui una pubblica amministrazione mette fuori dei dati e si dimentica, tra virgolette, perché quasi sempre non è una dimenticanza ma è inerzia, è volutamente resistenza a questa innovazione, allora in quel caso i cittadini, gli utilizzatori possono liberamente utilizzare quei dati come se la licenza ci fosse, ecco perché è open by default, cioè inverte quel principio del close by default che riguarda il diritto d'autore in generale. Però, cos'è che hanno fatto? Una cosa che io ho criticato e criticherò fino allo sfinimento, l'hanno fatto non toccando la legge sul diritto d'autore, cosa che invece era il passaggio più sensato, il modus operandi più sensato, ma l'ha fatto come? Aggiungendo una norma, un articolo, cambiando un articolo del codice dell'amministrazione digitale, cioè una norma che non ha nulla a che fare col diritto d'autore e si occupa invece di digitalizzazione della pubblica amministrazione, quindi creando a volte un conflitto tra, diciamo, una difficoltà nell'interpretazione di norme che sembrano tra loro non in linea e non coerenti. Ad ogni modo, eccolo qua, questo è l'articolo 52 che è stato modificato per inserire questo principio dell'open by default. Lo dice lì, i dati, i documenti che i soggetti, cioè le pubbliche amministrazioni, pubblicano con qualsiasi modalità senza l'espressa adozione di una licenza, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguarda dati personali. Il by default è in quelle due paroline, si intendono, cioè anche se la licenza non c'è, si può far finta che la licenza ci sia sostanzialmente, si intende come se, ok? È un accrocchio, perdonatemi, cioè dal punto di vista giuridico è un giro complesso per fare una cosa che si poteva fare molto più facilmente, più linearmente da un'altra parte, però se sono inventati sta cosa, questo è quello che abbiamo, diciamo guardiamo il bicchiere mezzo pieno, meglio avere sta cosa piuttosto che non avere nulla, piuttosto che avere l'incertezza che c'era fino al 2012 e vedete che attenzione dice ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguarda dati personali e quindi qua per la prima volta in questa mia lezione cominciamo a vedere l'altro livello, l'altro piano, quello della privacy, dopo ci arriviamo. L'anno successivo è stato rafforzato, è stato ribadito il principio dell'open by default nel cosiddetto decreto trasparenza che ha aggiunto addirittura un elenco diciamo di dati a pubblicazione obbligatoria, cioè alcuni tipi di dati le pubbliche amministrazioni sono proprio obbligate a metterli fuori e nel momento in cui sono obbligati devono comunque rientrare nei principi del cosiddetto riuso, quindi o della licenza open o se non c'è la licenza scatta il cosiddetto open by default. In più sono uscite anche delle linee guida, siamo un po' nel periodo storico in cui le linee guida sembrano le nuove le nuove leggi, cioè anche se non c'è una legge poi il ministero o qualche agenzia come in questo caso l'agenzia per l'Italia digitale, cioè l'Agid che è un'agenzia ministeriale che si occupa proprio di digitalizzazione della pubblica amministrazione, ha emesso queste linee guida che sostanzialmente dicono che per fare open data devi utilizzare licenze che vedete garantiscono un'interoperabilità anche trasfrontaliera tra licenze e un massimo riutilizzo dei dati e quindi arriviamo sostanzialmente alla CC BY, alle licenze con semplice attribuzione, cioè tornando al nostro schema di prima a questa roba qua, cioè queste che sono diciamo quelle della colonnina in mezzo, cioè le licenze con semplice attribuzione, quindi l'open data per eccellenza e questo lo dice appunto un ente che è ministeriale attraverso un documento che è riconosciuto come autorevole come le linee guida sull'open data, dice che appunto per fare open data correttamente una pubblica amministrazione deve stare in questa gamba dello schema, cioè quelle con solo richieste di attribuzione.